Sette sbarchi, quattro dei quali direttamente sulla terraferma per un totale di 140 migranti sono avvenuti da poco prima della mezzanotte fino all'alba, a Lampedusa. Tutti i gruppi sono stati portati nell'hotspot di Contrada in Briacola dove ci sono 798 persone a fronte di 250 posti disponibili. Poco prima di mezzanotte una pattuglia della Guardia di Finanza è rintracciato a Porto Nuovo cinque tunisini fra cui una donna erano sbarcati con un gommone a Calacroce. Mezz'ora dopo i carabinieri hanno rintracciato a Shatu Persu 61 subsahariani fra cui una donna alle 2.30, la motovedetta G118 delle Fiamme Gialle ha sbarcato nel molo Favarolo 14 tunisini che erano stati rintracciati ad un miglio e mezzo su un'imbarcazione di 6 metri. Due ore dopo sono giunti dopo il trasbordo a due miglia sempre sulla stessa motovedetta della Guardia di Finanza altri 15 tunisini. Alle 5 i carabinieri hanno invece bloccato in via Ponente 18 persone fra cui una donna ed un minore. L'imbarcazione in questo caso non è stata ancora ritrovata. A molo Madonnina nel frattempo i militari della Guardia di Finanza hanno bloccato 13 tunisini giunti con un barchino di 6 metri. Alle 5.35 una motovedetta delle Fiamme Gialle ha sbarcato 14 tunisini che erano stati poco prima rintracciati a un miglio a sud di Lampedusa. Intanto la procura di Agrigento ha disposto il fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di un trentenne egiziano ritenuto lo scafista del barcone con 419 migranti approdato lo scorso 7 luglio a Lampedusa e di un 42enne tunisino ritenuto responsabile dello sbarco di 48 immigrati avvenuto sempre il 7 luglio.